Lasciando a te la parola, dicendo qualcosa di personale a tutte queste persone che sono venute qua quest'oggi per te. Di personale da dire, c'è solo grazie, grazie mille perché fondamentalmente se io sono qua è perché ci sono loro, se no io probabilmente sarei a casa. Potrebbe sembrare anche un tiro applausi, no? Non era quella la mia intenzione. E per il resto, veramente, qualsiasi cosa si faccia, in qualsiasi realtà si viva, se si vuole, ma realmente non mollare mai e continuare a crederci, che prima o poi con l'impegno da qualche parte si arriva. Quindi a tutti quanti, anche ai ragazzi un pochino più giovani di me, a quelli che magari non hanno ancora lavoro, a tutti quanti. Diamoci dentro perché dipende quasi ed esclusivamente da noi, quindi crediamo in noi stessi. Io farei un grandissimo applauso a Alberto. Grazie a tutti voi. E rimanere qui per...